Intanto bisogna che la gente diventi consapevole del fatto che siamo su questa astronave Terra e questo è un concetto ancora poco diffuso secondo me. Sta di fatto che l'astronave Terra andrà nel senso di avere sempre più gente sopra e sempre meno risorse nel sottosuolo. La speranza in qualche modo più grande è quella di utilizzare sempre di più le cosiddette energie rinnovabili e che essendo rinnovabili appunto non sono un problema, anche perché sarà necessario riciclare tantissimi materiali e se noi riusciamo a riciclare non avremo abbastanza e per riciclare ci vuole energia, quindi ci vuole un'energia che a sua volta sia gratuita, sia rinnovabile. Cosa possiamo augurare al mondo e alla Terra per il 2012? Beh, intanto augurare la pace naturalmente, ma più che altro la pace è poi il risultato diciamo del fatto che bisognerebbe avere meno disuguaglianze sulla Terra, perché se abbiamo disuguaglianze naturalmente ci saranno sempre guerre, migrazioni, gente insoddisfatta, quindi ci vorrebbe un piano in qualche modo all'interno di ogni nazione, e se possibile anche su scala internazionale per avere meno disuguaglianze e così per proseguire il nostro viaggio che è già complicato, non dobbiamo complicarlo ancora di più. E in questo campo l'energia può essere diciamo un fattore importante, perché come sappiamo al giorno d'oggi l'energia è usata in modo molto disuguale, e sappiamo benissimo per esempio che un americano consuma come due europei o come dieci cinesi o quindici indiani e bisogna andare verso a un consumo diciamo più equo e a questo potrà in qualche modo aiutare l'energia solare che essendo diffusa su tutta la Terra può essere utilizzata in qualsiasi nazione.